Ciao a tutti, oggi prepareremo le verdure stufate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono zucchine taglia da cubotti, melenziane taglia da cubotti, peperoni tagliati a cubotti, zucca tagliati a cubotti, pomodori tagliati a pezzetti, cipolla, olio evo, prezzemolo, basilico, sale, pepe e origano. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico e la cipolla. Ed azioniamo il billy per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 gradi velocità 1 Aggiungere le zucchine e la zucca i peperoni le melanzane i pomodori l'origano l'origano il sale e il pepe e cuocere per 20 minuti 100 gradi anti-orario velocità soft le verdure sono cotte impiattare e servire verdure stufate grazie e alla prossima ricetta a 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